Ciao a tutti ragazzi, oggi questo è un video un po' triste come avete letto dal titolo ho perso il mio mondo e quello lì della vanilla in cui vedevate tutti su youtube ho perso, qui non c'ho più mondi, sono tutti mondi vecchi creativa e niente, vi volevo dire questo, mi dispiace un botto adesso sono un po' triste, sono un po' amareggiato che stavo creando mondi e eliminavo così giusto per vedere qualche seed così a caso ho eliminato per sbaglio il mondo non ho alcun backup e quindi mi dispiace, mi chiedo scusa ma cioè non l'ho fatto apposta e se qualcuno mi poteva dire un modo per recuperare il mondo e ditemi se sapete qualche consiglio magari per recuperarlo vi dico che non ho alcun backup e niente non vi chiedo di iscrivervi, di lasciare like anche se volete fatelo che a me lo fate tanto contento e sostenete questo video con tanti commenti e niente ci vediamo in un prossimo video spero più vi bacio ciao